eccoci qua carissimi amici andiamo avanti con il report così delle auto storiche qua sono in compagnia del giovanissimo Dario qua eh qua delle zone del Pistoiese e niente abbiamo qua la possibilità di mettere da parte anche questo altro report un'auto qua del bravo Dario 20 anni vai lì Dario già tre auto storiche Dario e non vuoi fermarsi questa è stata la prima diciamo in assoluto è stata la tua prima quella che è raccontaci un po la storia di questa Volvo si con cui ho imparato a guidare l'ho presa nel 2018 a Padova a Vaux l'ha presa a Vaux dove è scoppiato il primo focolaio che dopo ci ha portato al lockdown e niente insomma ti piaceva questo modello? Sì sì mi piaceva questo modello mi piaceva il colore volevo una Super Polar e la Super Polar di questo colore non esisteva per fortuna ho trovato una Super Polar che è stata riverniciata esternamente di rosso e perché questa nasceva con un altro colore? Sì nasceva a Bordeaux nasceva a Bordeaux e la cosa positiva è che è rimasta di questo colore all'interno che può essere tranquillamente se uno domani la vuole ragazzi un transatlantico per un ventenne ecco eh infatti il mio maestro di guida ci diceva sempre se guidi questa puoi guidare tutto esatto eccoci qua eh ben tenuta mi dicevi che ha un bel po' di chilometri 404.400 tutto originale quasi sì sì gli impegni sono originali un po' di segni la lasci così insomma conservata non è che esatto la porti a fine vita questa qui la porti a fine vita così eh mi dicevi a che ogni tanto consuma questa o? eh questa consuma diversa benzina sì rispetto a due cavalli velocità massima che ti fa questa? eh questa è anche 150-160 volendo insomma buona poi io in autostrada la città è la grande eccoci qua eh ci fai vedere il motore qua? sì buon motore? la prova revisione qua dal vecchio Marvin qua insomma eh intanto vi faccio vedere questa Volvo Polar che in questi giorni ne avevo fotografata una nelle zone di della Toscana nelle zone di Montemurlo mezza abbandonata eccoci qua eh adesso vi facciamo vedere qua il motore facciamo vedere anche il bagagliaio madonna eh certo certo facciamo vedere tutto qua guarda qua eh sì sì il motore originale originale insomma non ti ho mai dato nessun guaio meccanico? no 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 infatti diciamo le cose di te ci fai tanti chilometri con questa la utilizzi solo qua? ma questa per un periodo l'ho utilizzata abbastanza diciamo in questo periodo lo sto praticamente te non conosci le auto moderne non le conosci te vuoi? eh sì poi dopo possibilmente poi avevo anche un Audi A4 però ti piace? hai più soddisfazione chiaramente? sì sì la soddisfazione che c'è guidare queste qui è impagabile questi tuoi amici cosa ti dicono quando vedono questo transatlantico? eh a volte non gli riservano parole tanto tanto no no eppure bella a me piace molto questo colore rosso guarda lo stile poi ecco qua vediamo un po' il bagagliaio che si dicevi appunto che merita guardate qua il giovane Dario insomma salutiamo la gioco qua eh guarda che si è persa che oggi qua c'è anche in sintonia in sintonia c'aveva anche il sacchetto dell'Ikea dell'Ikea esatto qua eh bravissimo qua qua veramente puoi andare anche sì sì ci si può tranquillamente dormire ci si può dormire anche vero un weekend al mare così da battaglia vero? sì sì la battaglia ecco qua e niente spettacolo ci fai sentire il motore e il sound guardate qua eh spettacolo dal caldo qua nelle zone di pistoiese e pesce qua eh guardate qua qua ci andiamo a regolare silenziosa insomma sì sì è molto silenziosa per l'età che ha è lonti e trent'anni fra un annetto oggi trent'anni ragazzi come del 91 a tuo papà piace guidare questa? sì sì anche questa mi piace anche a tua mamma piace la passione? sì sì perché sarebbe sua diciamo che per me praticamente perché niente dai giovane Dario qua fai un saluto qua a tutti gli amici qua eh spettacolo ecco qua abbiamo messo da parte il video per l'inverno qua spettacolo ragazzi ciao a tutti e avanti con la passione delle auto storiche con Dario ok? ciao a tutti spettacolo salutiamo Max Walter Roberto Gialdi Michelino eccetera eccetera quelli che commentano Tommaso Labari eccetera eccetera video del bene e via andare spettacolo e la giochiamo ciao a tutti